Acquafer 2019 siamo allo stand di Blu Pura, l'azienda marchigiana che si occupa di sistemi per la distribuzione dell'acqua attraverso macchinari ma anche di case dell'acqua, costruzione e gestione. Siamo in compagnia di Deborah Screpanti, Deborah bentornata. Grazie mille Fabio. Allora parliamo delle novità che voi avete portato qui a Venezia in questa due giorni dedicata ai sistemi di filtrazione e di distribuzione dell'acqua. Sì abbiamo lanciato da pochissimo un nuovo prodotto dedicato al mondo del domestico e dell'ufficio si chiama Piccola, come dice proprio il nome è piccola nelle sue dimensioni ma ha delle ottime capacità perfumanti ha 15 litri ora di raffreddamento e fa anche acqua calda con una capacità di riscaldamento di 8 litri orari quindi direi un ottimo prodotto per come dicevo prima per la casa e per l'ufficio da sopra lavello sotto lavello ed in più con l'occasione abbiamo presentato anche una nuova versione del nostro urbinetto Blue Tower che è un colore nero quindi molto più elegante e molto più snello che permette di erogare acqua liscia fredda e gassata e poi l'opoxifico gassatore che può essere di varie dimensioni e capacità. Ma non finisce qui? Eh no, diciamo che Blue Pure ha comunque un'ampia gamma non solo per l'ufficio e il domestico ma sicuramente per la ristorazione ecco perché presentiamo anche in occasione di Acquafer la nostra Eco Chic con una capacità di 80 litri orari e porzionatura volumetrica, tre punti di erogazione perfetta per il mondo della ristorazione e dell'hotelleria. Beh insomma diciamo che è tanta roba per essere uno stand di 4 metri per 4. Deborah, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui coloro che hanno visto questa intervista se interessati possono contattarvi senza alcun impegno? Certamente, potete contattarci a info.chiocciolabluepura.com e saremo lieti di assistere le vostre richieste. Grazie per il momento amici, noi continuiamo un bicchier d'acqua però a questo punto ci sta. Certo, assolutamente, andiamo a farci un bicchier d'acqua.